buonasera a tutti stavolta ce l'abbiamo fatta accettare tutto per bene abbiamo capito come riavviare il video iniziale iniziamo la partita dilettante per vari motivi principalmente per lei perché come dice il titolo stesso proveremo a giocare in split screen sperando non sia troppo inguardabile esattamente e niente cominciamo sarà divertente spero sicuramente guarderemo tutti i video la storia del 5 non è a livelli del 4 si ricollega un po meglio alla trama principale del gioco però molto carino indubbiamente bella fra la fine 4 aveva semplicemente dei personaggi che lo chiamano porto non c'era niente ti tra un po avranno nominato l'ombrella una volta noi c'è molto più legato con i personaggi grandi ritorni poi mi devi fare un piccolo tutorial dei tasti appena arriveremo la prima parte sarà singolo perché bisogna arrivare a un certo punto prima di poter mettere secondo player per cui ci saranno circa una decina di minuti scarsi che andrò in giro da solo sperando che sia capibile lo split screen non è vero e purtroppo è un certo punto per cui si mangia un quarto di più c'è oddio noi ce la facciamo perchè abbiamo ancora un contenitore 40 pollici 43 pollici quindi ci vediamo ecco però potrebbe essere un po troppo piccolo vediamo com'è se è inguardabile domani guarderò partire di pay se è inguardabile e valuteremo di capirarsi un po' anche se voglio giocare anch'io che inquadrano prima il culo e poi la persona c'è il nome è Sheva Alomar chris redfield il tuo reputazione precede a te, mister redfield è un onore chiuso chiuso, grazie quindi si avvicinare a me al destinato? sì tensioni sono migliore spesso l'identità con il cambiamento capire intel lo sape non è solo e non è solo solo in americano, ma è sicuramente cari aiutare al solito Sì, beh, tecnicamente nel 3 muore Salte in aria da una torre A me cosa gioca, esattamente a me cosa gioca Quando lei è in giro, la prima parte si svolge prima di due E' spaccata esattamente da quell'evento L'esposizione del torre del rorogio tra Wesk e Nini Hafa Di maniaci gratuiti Ok, si comincia Realmente La cosa bella del 5 è che ci sono questi caricamenti con vari hints Sugli avvenimenti dell'intera storia Alcuni scontati famosi e quant'altro Ma sicuro che non mi posso unire già da adesso? Devo semplicemente andare avanti Qua non anch'io posso farmi un vittoria Devo semplicemente andare avanti La mappa si metteva così La mappa ce l'avevamo sempre visibile, credo Vediamo Quando il single player la puoi lasciare sempre visibile Molti non lo so, non ho mai giocato in coppa Sta di fatto che appena entreremo in quella micelleria potremo giocare in due Si va, si è accorta che qualcosa non va D'altro siamo messi in posizione brutta Perché tu hai lo schermo a sinistra Io ho lo schermo a destra E qui siamo io a sinistra e tu a destra Giriamo la casa? No Stavo solo pensando a questa cosa Non pensare, ti fa male Ti brucia l'ultimo neurone che ti è rimasto Dai Allora, la telecamera ti gira Eh, qua ti gira la telecamera Non sono abituato Il 4 era come voleva lei R2 R2 Trova a fare Non sono veramente, non ce la faccio a girare la telecamera Mi sento ubriaco È successo, è successo con il veronica Adesso ci inizierà Questi sbaligni Questi sbaligni Adesso mi unisco Ok, sì, adesso puoi averti Ok, spits green sera Non possiamo raccogliere Ok, io non l'avevo ancora appreso, ne so In realtà il mio schermo è a sinistra Quindi non mi crea problema Basta che guardi sempre Tu guarda solo il tuo schermo Cioè, non guardarlo il mio Ok, ho equipaggiato l'arma Con cosa sparo? Allora, L2, premuto miri Minchia, ha cominciato Ah, ma qua c'è la tizia del 4 No, quella è sci, ma non c'entra un cazzo Non è mai vista Ok C'è il 4, poi Ada Cioè, una è cinese, una è negra No, quella che parlava a Lyon Parlava a Lyon? Ada No, quella che parlava a Lyon nella trasmissione Annigan, ma va Oddio, Irving, vero Eh Eh, sì, moriremo male Allora, rifacciamo Questo miro Ok, perfetto Non spararmi indosso, possibilmente L1 Coltello Ok R2 Mentre Sia mira che coltello Con R2 attacchi Ok La mappa rimane Ce l'ho io nello schermo E R1? Premi R1 Vediamo fianco a te compare la mappa Perfetto Entrambi abbiamo la nostra mappa Tu sei l'icona rossa nella mappa Oh, aspetta, aspetta Questo mi ricorda qualcosa Ovviamente con la logica destra giù la telecamera Sì, 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 quello Ok Come corro? Eh, X Fino Ok Allora, basta No Oh Stavo esaminando il cervo Asamina quello che vuoi Tu puoi fare quello che vuoi Tutto renderizzato a parte Quindi Oh, sì Siamo separati L'altro è molto più veloce E meno macchinoso il pugnale Rispetto al quattro Già Eh dai Non sembra troppo brutto Dovrebbe essere brutto Ma sembra un po' piccolo Perché Eh, piccolo è piccolo Sicuramente Metà schermo praticamente Fai cerchio sulla porta per favore Qual è il cerchio? Oh No No Avvicinati Vieni Ok Ok Sorry Ma perlomeno i video sono unici Con cerchio Certo Con cerchio fai le azioni Combinate Si può spostare cose insieme Va bene Stavano cercando di cliccarsi Un palassite in bocca Sì Brutto E questa è praticamente L'evoluzione Della tua Vedete la Qua the name Urobor Sì Molto più aggressiva Eh si vede Non piantano praticamente Direttamente Parassite adulto Anziché le uova Dopo molto poco Già Impartisce Da Simpatico Un braccio Che quanto la mia gamba Esagerazione Era minimamente così Nel 1 Cris Era così piccolo Magroligo Devo sparare Che c'è Che c'è Se devi sparare Ah che puoi anche sparare Sì Li stavo sparando È morto Eh no Ti stavo sparando Ma tipo Che non l'ho preso Per ricaricare come si fa Sì hai proiettili miri E i x Ah ok Queste cose non cambiano mai Sì Ricordi tu perché Quei vestiti Non dovresti avere quei vestiti Sono Fin troppo belli Sì non so Nei vestiti di sciva Sono orribili I vestiti classici di sciva Voglio cambiare anch'io vestito Non lo so Era già così Non so Comunque mi chiamo A 60 fps strafluidi No Nulla da dire Bello Ok poi dobbiamo barricarci Cap In qualche modo dobbiamo barricarci Da qualche parte Ok Sì Indietro Mi fa dentro Come in Kirk I locali I locali Had to use force We don't have any contingency plans For this situation Do we Kirk Roger on the locals But your order still stand No Qui sono barricati Ehm Un po' cazzo Andiamo Ah ok Due persone potrebbero battere Ok Vieni a dare un cazzo Cominciamo a me Un'ascia gigante Nice Penso di qua Sto rompendo Sto rompendo cosa C'è un saltaggiù Andiamo 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 Quando è a ferrarla a volo Cosa Schifo è questo Cosa brutto Non mi interessa No Proiettile Proiettile Finissime Dove sono? Sullo scaffale Ok Sconfondo sempre cerchio Con quadrato Ce la farò Il cerchio Destro Non ti pianta Che gli ho un po' di roba tu Perché io ho un po' Alimentario pieno Quella coi tacchi Tranquilla Già Dove pensare che magari L'abbiamo cambiato I vestiti default In questa volta Ho giocato alla liscia Iniziale No Questo è sempre rimasto Non sembra Qualitativo dal 4 E parecchio altro Eh sì Vabbè c'è in mezzo Il Revelation Come Uscita No E dopo Superiore Ok Che altro Questo è uscito A quanti anni Distan Quello era per PS2 E questo è per PS3 Buah Questo non c'è Questa scena È il benchmark Per PC Tutto questo casino C'hanno visto Barrica di Forte Barrica di Forte Poi ci viene un tizio bello Tipo il tizio grosso Con l'ascia Ci viene a prendere Ah ok Allora Aspetta Dobbiamo spostare queste cose Su Le finestre Però Vimotivi Non sulla porta Sulla finestra Vabbè sì In tuo caso Io l'ho messo Sulla porta Vabbè sì Manca di qua Ehm Qui non c'è niente Da spiegare No C'è il tavolo C'è da fare sopra Oh oh Occupati di qua un attimo Io vado sopra C'è cosa vuol dire Occupati di qua un attimo Niente Perché pensavo ci fosse sopra Ah Ok Perché un sopra non c'è Ok Ok Hanno spandato Ma qua da subito Cominciamo ad avere Rado stanno in testa Potrebbero morire Molto Facilmente Uh Gli ha preso uno in testa Nient'io Non c'è potenza Potenza Ah ok Non 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 Rimango Non rimango Ok Ah C'è un risultato Kirk Come in The locals are hostile Come faccio la giuda And we're trapped We need backup And we need it right now Oh oh I'm on my way I'm on my way I'm on my way Got it Just help you That's it Quick Ecco qua C'è la micro rossa Mi ha detto Ok Sono morta No Hai tanta vita Tu sei colpello Per ora Sono dei pressi In giro Sul tavolo qua Se ti avvicini al partner Ho il pizzo dietro con l'altra Che ti trova Se mi avvicino al partner Tanto Tre certi mi liberi Ok Dovremmo sistemare un attimo Se tutta noi Deci a favore Via 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 Fì se tu hai Qua Con un erbato Se sei avvicini Ci guidiamo entrambi Ah ok Mi sta un po' rincorrendo Oh I'm coming Ai ya Come on Come on Dopodiamoci in tanti Un attimo Stavo cercando di spostarmi Ma questo è avversione Ma in effetti basta muovere un po' il Cioè ma Smettila Cioè sto Solo aiutando te Ho il mondo che mi vuole E che cazzo Fammi sparare Sono un po' tanti Sì Sono tantissimi Mi continuano a venire Più che altro Per cui Boh Tipicamente possiamo andarcene Eh Però Ahia Sì Sì Quando sei morente Devi sticarmi la siringa addosso Io Ok È che non ho più Messo un progetto Ce n'è un Un pacco terra A Au C'è quello Grosse Praticamente Sptarli Eh Finché Ai 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 No Un certo воды è morto il disegrosso, fa un fuori di alto andiamoci proprio di forte si si, ci sono queste quelli come si tengono sempre la pancia ma dopo che gli stunni li puoi massacrare alcuni e fa male vabbè andiamo non so che cazzo siamo fatti oh merda ma non ce la fai a giovere quel tasto devi ruotarlo ah ok cazzo guarda di cona io sto morendo per pararti tu ogni volta a me c'è nel bisogno Sembrano finiti Ma non mi ricordo che cazzo bisogna andare Andiamo a scendere da qua Perché non ci c'è nulla Che cazzo c'è andato Non vedi qualche porta No, sto cercando anche di trovare Qua c'è una scala A parte che ti ho perso R2 Ok Ma tu ce la fai ad arrivare Oh merda, un'altra roba non c'è seguendo Come cazzo Dove sei? Azzempo Dall'altra parte del pianeta Che ho venito a prendere Orca puttana, non ho più proiettili Tra l'altro Sarà difficile giocare con te Devo solo capire un altro Ho tutto un muro qua Io entro qua dentro Tu entri qua Ok Ci sono dei proiettili Per mitragliatrice E' una piantina verde Sì E' una piantina verde Sì mi sento andando perché il nostro soffrendo in tanti per gli ambienti spettiva davanti forse dobbiamo aspettare era proprio solamente a tempo vaffanculo ok ma ferrino però dai quindi è dei due è fatta apposta per gente e beh la porta dobbiamo prendere questo niente dieci minuti di resistenza ad oltranza bene ma non me lo ricordavo onestamente che fosse a tempo no certo abbiamo preso addirittura non va bene no vabbè per carità guarda la mia percentuale 35% hai una bella mira c'è uno spreco di proiettili siiii termina partita ok posso acquistare roba posso comprare una mitragliatrice la pistola l'abbiamo attuando a te non serve una mitragliatrice caricate quella roba non so se conviene potenziarla allora vediamo potenzia quanto costa potenziare questa cosa la potenza 2000 ok aspetta però perchè abbiamo dei tesori da da vedere vabbè no qua si vendono e basta ah ok però puoi comprare solo tu mi sa si io posso comprare ma posso d'arte c'è già non te la posso dare ti posso dare le bombe a mano scegliamo tipo delle armi non so una pistola testa dove non si mira niente tutto miri che cazzo vuol dire una cosa non si mira dormi allora guarda no una cosa non si mira che facile da mirare in quel senso niente niente devi mirare bene e basta va bene ehm cosa sono quelle bombe a mano? queste? dammela le vendiamo ehm allora la pistola è importante la potenziamo per ora quanto meno la mia sicuramente danni critici aumenta la possibilità di un colpo alla testa e dai andiamole e poi in realtà il resto non non voglio migliorarlo e la a me questa mitraglietta non piace per cui non ci voglio neanche investire soldi e la vuoi tu? dammela e tieniti anche i proiettili ok se non ti interessa possiamo lasciare nel deposito ma io la uso anche come faccio a fare? ok a far cosa? a metterla in uso forse magari mentre siamo in gioco ok va bene ti basta prendere a finistra in realtà scusi la pistola a finistra ah ok e la croce ok perfetto questo a me sembra il posto di prima semplicemente senza tutti quegli zombie brutti si qua c'era il muro che è stato sfondato per cui dobbiamo andare a sinistra ma mi ricordo che qua c'era qualcosa di interessante verso qua ovviamente buttandosi da qua eeeh ahhh da questa parte beh c'è no magari in un altro momento non c'è nessun momento non c'è neanche una strada qua sotto non c'è un cazzo vabbè senza le scuole vanno che devo entrare ma neanche dobbiamo semplicemente fare il giro qui c'è niente qua c'è qualcosa qua c'è no che tesoro al maschio no è il pezzo dietro dove eravamo c'è un barile da rompere ora oro grande 400 un potenziamento sulla capienza della pistola no no come on come on quante volte lo sentiremo come on come on alexia è infetta al padre inietta al padre l'exander il virus di veronica l'esperimento non ha successo c'è niente qua no che cosa che brutale che sembro samurai forse non si ronca qua c'è la porta Aspetta Sì beh Uno dei due salirà lì Penso te Ok Cerchio Hai un'icona enorme al centro del tuo schermo Sì sì ho capito Ora aprimi la porta Faccio l'Ashley di turno E mi dici come faccio A da questi la porta No va in giro esplora Non c'è niente qua C'è una porta esamina Vedi pensa assalti Ok C'è qualche modo Sicuramente c'è Il mio bot Quando giocavo da solo Apriva Io però non sono un bot Purtroppo Oh Che cosa voglio Vabbè Qui di fatto non c'è niente C'è C'è Guarda Mi sento stupida Allora Qua Non c'è niente Per C'è solo un salta giù Che non mi pare il caso Visto che mi hai fatto salire tu Tu sei lì sopra Mi sento da qua C'è l'unica azione Che posso fare da qua sopra E saltare giù Perché vedo Cadaveri in realtà Ah non è visto Vedo qua segna un punto Il punto che segna però È raggiungibile solo da te Mi sa Guarda un attimo Il mio schermo Questa è l'unica cosa Che posso fare Mi dà salta giù Salta giù Salta giù Aspetta A volte sono arrivato A destinazione Vediamo Osh Ok Forse sono Sì sì Di qui sono arrivato io È chiuso all'interno Vedi tu devi apirmi qua Sì Ma non da qui però Allora Non lì Qua è ovvio Che non ci può andare Che cazzo Continua a fare Non E posso andare solo giù Però Non giù Allora dimmi Non puoi stare di fronte lì No Salta giù Cioè Salta giù Salta giù Salta giù Salta giù Entra dentro Cosa c'è dentro Niente È tutto lì Sì Salta giù C'è Salta prima Direttamente Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Io ho scoperto che dentro il pomodori ci sono degli oggetti No Qua infatti c'è una porta Qua si continua Mi sei quasi Mi pare che di qua si può entrare Possiamo aprirci la soglia E' cattuzzi l' persecuza Ciao Ciao Ci ha trovato Mitta perdermi Ii Ok, questa è la porta che era chiusa, va. Salta giù, cuore, faccio un tesoro, con dentro un tesoro. Di fatti non c'è nient'altro, quella chiave non è il momento, mi sa. Vediamo. Va, 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 va. Ok, sì, ero un po' esagerato. Bene, andiamo giù e c'è la porta a sfondare. Oh! Help! Somebody help me! Help! 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 Oh! Siamo siate, io sono... Qua dentro possiamo entrare, ci serve una chiave. Ci serve una chiave. Certo, è una scala su. Vabbè, io vado qua. E io ti seguo. Non possiamo stare di fronte? No. No. Vabbè, è filo spinato. Quindi di fatto non c'è nulla. Di qua? Tutto? No. Di qua non c'è nemmeno nulla. Quindi di fatto dobbiamo salire qua. Lei? Lei? Be careful! They may still be here. Infatti lei è lì. Già. Non c'è vola? No. hjälper direi di over del vorto. No. No. No! 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 questo è un termine eeeh ahia ahia ok vabbè c'è una chiave che è quella che vedevi tu dalla sua parte solo per come arrivarci io sono già morta tipo vado a dormire sembra che li sto prendendo vabbè 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 da dietro la diretta destra di girare eh questa è la destra e la giro ma non funziona funziona subito non lo so te perché ma la giro è la tua veloce non so belle cose infatti su questi top l'obiettivo è scritto sopra vero? si è vero che ci sono le sbarre ma anche qua c'è una stanza sul top qui sono le sbarre allora c'era qualche porta scala si è vero che ci sono le sbarre ma ci abbiamo perso qualcosa tipo una scala è inquietante che due persone a cercare non troviamo niente poi da dove siamo arrivati? c'è una scala qua mi sono venuti però probabilmente dobbiamo andare da lì perchè infatti qui non c'è nulla aspetta c'era una cosa esamina sta cadendo tutto il pezzo ma non ho niente come questa cosa non posso farla no qui siamo venuti però infatti mi sembra magari eh no invece è giusto ah ok è appena morto il tasso davanti e allora si eh si siamo giusti ho beccato la salda giusta pronta? no posso far abbattere le statue le statue si c'era scritto abbatti ah no la scala la abbatto? no ok che ora quando fa forza? il massacro no non è è ci è l'ultimo è l'ultimo l'ultimo di l'ultimo è c'è l'ultimo l'ultimo che qui I saw someone, but they ran away. Kirk, do you copy? We got the data. That Alpha team is down. No even got away. Roger. Related data from the vehicle at the storage facility. I'll be there. C'è qualcosa da prendere qua. Un po' di mission. Per il resto... No, spero, c'è un armadio e robe da rompere. E' da dove siamo arrivati. Dobbiamo andare nell'ascensore qui. Ok. Ci sono, ci sono, è lui. Ma dove cazzo c'è? E se non ce l'ho io non gli piace. Ovvio. Di che ti posso lasciare indietro? Da. Ma da da rompere. Questa è la stessa sostanza a me, appiccicosa, rinvenuta su quel cadavere. Interessante. Belle cose. Da dai, indietro. Troverete lì, tra. Indietro. Sì, sì, sì. Troverete lì. Tad. Di qui cosa stiamo? Una persona? un venditore non mi piace ma io posso farlo esplodere non farlo si lo so immaginavo non è adesso questo pezzo come no non quello che dobbiamo farci no andiamo via da qua posto brutto tantissimo ma manco per scherzo inizio il gioco andiamo via shit non mi sa allora che tocca farlo che gioia eh non so di cosa tu stia parlando proprio la prima puntata questa roba brutta no non andrà avanti aspetta aspetta dovrebbe partire un video ma fuori della fornace ok il problema è che è quello che succede ora questo ricordo bene giusto si chiudono le porte e generisce l'interno giusto con un bel po' di video ok ricordo bene e questo boss quello che c'è lì dentro no è quello che devi farci entrare lì dentro ah e generirlo ok e queste cose ti servono per rallentarlo quindi tu adesso vai qui per andare verso di là ma dovrebbe succedere qualcosa di molto poco bello esattamente tipo corriamo a incenerire quindi vado diretta diretta dove sei dove lì tu prima si dobbiamo andare direttamente lì dobbiamo farlo dobbiamo baitarlo lì dentro e eh e esattarlo ok ok attiva quando deve attivare ok attivare perché si non ti capisco proprio niente attivare le bombole da gioco e io pensavo fosse nel 4 questo pezzo quando ti dicevo ah le bombole lì esatto ok vado 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 dietro butto giù la bombola no aspetta quando è qua ok la rovescia e gli spari la rovescia è buio vado 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 dietro vado troppo vicino non mi sono spostata abbastanza ok vieni dentro vieni dentro non bruciarmi vieni dentro oh ma mi fa spendere qualcosa che voglio vado e ne vado io è fuori totalmente fuori vedi qua ok prima che è andato sottoterra quindi uscire da vostra parte qui qua not that ok ok Esci da casa, esci, esci. La gente si dentro ora? No, è una città di poco. No, non bisogna spiegare niente. No, non bisogna spiegare niente. Entra, 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 entra. No, non bisogna spiegare niente. Uno deve rimanere dentro. Ok. Rimani, se ce la conto rimani. Rimango, rimango, rimango. Ce la conto. Puoi uscire? Esci. Ok. No, perché tu devo andare. Però sto di una parte. Appena non c'è l'impatto. No, ok. Mi sono contento. Uh. Mi sapeva il cazzo di lei delle porte. E' fastidioso. Eh. Penso che non basta. No, 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 basta, basta. Ah, ok. Sì, mancherebbe. Una fornace. Va bene. Sì, un po' di merda. Non ho anche troppato nulla. Io non ho niente per curare, quindi mi spiace. Ci rinimeremo ogni volta. Eh sì. Cosa buona è che questo è difficile morire perché puoi rinanimarti ogni volta. Beh, è meglio, se è noto avrei già fatto tipo... Sì, 38 di muovere avrei dovuto. Esatto. Qui dovrebbe finire il capito. Beh, è abbastanza corto, come capito. Ma io penso di esserci persi la doppietta, può essere. Non ho idea. Beh, che comunque puoi comprarle a poco prezzo. Spero. Muoviti finché non vedi cerchio. È inutile che spammi cerchio. Ok. Scusate. Mi sembri un... Boh. Io ho visto cerchio. Sì, ma... Devi comparirsi a schermo di parlazione. Ok. Se non spammi comando e basta. Ok. Eidades. E studenti. Ok. Ok. che cosa? B.O.W. che scumbag Irving ha lasciato per uscire. Considerando quello che ha fatto con l'alpha team, credo che ci siamo forti ancora di respirare. Se solo potessi arrivare a qui più. Se avessi, probabilmente saremmo morti anche. Chris, da HQ. Hai capito? Questo è HQ. Grazie a tutti. Siamo analizzati i dati immediatamente. Questa città è andata. La persone qui stanno facendo come i Gannato dettagli in il reporte Kennedy. E ciò che c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che non abbiamo mai incontrato prima. La trasportazione è stata riuscita, anche. Vi chiedere una missione. La missione è andata. Capturare Irving è il vostro priorità. Credo che avessi avvicinare nelle minole sull'altra parte della stazione. Cosa? Ci siamo solo due? Cosa? Hmm. Okay. e vedi quali sono i vestiti il peso b o 50 per cento dai sono migliorata in un capitolo solo metà dei miei colpi sono andati a buon fine hai ucciso cinque cose però non importa ok salviamo penso salvi in automatico penso anch'io infatti si l'abbiamo già messato sicuramente avevo uno spray medico tra l'altro brava ora abbiamo una pistola uno spray medico anche nell'inventario nel deposito tanto ci torneremo quando sarà il momento per adesso abbiamo cominciato questo vediamo come si vede allo split screen e valuteremo se continuare così esattamente per questa sera è tutto grazie di aver seguito vi auguriamo una buona serata buona serata